L'economia in primo piano è stata presentata alla nuova edizione del Taranto Finanza Forum, un appuntamento molto importante che anche quest'anno è stato organizzato dalla Banca di Credito Cooperativo San Marzano di San Giuseppe. Il Taranto Finanza Forum non deve essere interpretato soltanto come un momento annuale in cui si confrontano esperti del settore, economisti e via discorrendo, ma un'occasione per sviluppare il territorio locale e soprattutto la sua orografia attraverso anche delle iniziative popolari. Sì, è una vera e propria operazione di marketing territoriale di alto livello. Infatti noi apriremo il giovedì proprio con un convegno con il GAL dove parteciperanno nominativi a livello nazionale e esperti appunto in enogastronomia e turismo. Però poi parleremo di finanza, parleremo di economia, il venerdì avremo Oscar Giannino che ci darà in assoluta libertà il suo punto di vista sulla situazione economica e politica per arrivare alla giornata di sabato dove i bocconiani ci daranno un loro punto di vista sulla situazione economica italiana e internazionale. Quindi partiremo dal locale, dal territorio per arrivare all'Europa, per arrivare alla economia mondiale nella giornata di sabato che sarà quella di chiusura. Le novità di TFF 2012 sono il messaggio d'apertura di Francis Ford Coppola che è un grande regista di origini italiane che ha investito nel sud, poi il lancio della web di Poo, della BCC e poi questo conto corrente deposito destinato esclusivamente ai fuorisede. Sì, noi siamo stati veramente onorati che Francis Ford Coppola ci abbia voluto dare questo grande suo contributo, un messaggio nel quale lui ribadisce le sue origini italiane e dà una grande parola di incoraggiamento al nostro Paese. Penso che questo momento sarà un momento toccante per il Tanto Finanza Forum. Fra le altre novità avremo il lancio della nostra web tv con una serie di canali tematici particolarmente interessanti. Naturalmente è qualcosa che va fuori dalle caratteristiche di una banca, una web tv, però riteniamo che sicuramente in un mondo che va sempre più verso la comunicazione anche questo sia un passaggio importante. La terza novità importante è che noi vogliamo, pur rimanendo una realtà territoriale, portare il nostro marchio fuori dalla nostra provincia. Lanceremo in quella circostanza il conto di deposito che sarà possibile aprire in tutte le parti d'Italia. Ci avremo un target particolare che sono appunto i tarantini e i pugliesi che sono fuori sede e che vogliono contribuire, aprendo il conto online della nostra banca, allo sviluppo del proprio territorio. In sintesi, col Tanto Finanza Forum vogliamo dare un'immagine di una Tanto che reagisce alla difficoltà del momento, di una Tanto pronta a ricominciare ed accettare le sfide del futuro. In sintesi, col Tanto Finanza Forum